Mancano poche ore alla presentazione della squadra del Marchion in Ibis. Lunedì mattina è prevista la nomina degli assessori scelti per il secondo mandato. I nomi già certi sono quelli di Patrick Rabaini, cui si aggiunge la riconferma di Marinella Franzetti, che resta vice sindaco, e il nuovo ingresso di Giovanni Margaroli. Gli altri sono ancora da definire tra i più votati del PD e comunque i giusti riconoscimenti alle due liste civiche. Entro due giorni tutti i nodi dovranno essere sciolti, così come probabilmente con l'inizio della settimana arriverà anche la risposta di Gian Domenico Albertella sull'offerta che Marchionini, insieme al segretario provinciale dei DEM Giuseppe Grieco, gli ha fatto, ovvero di presidente del Consiglio Comunale, in un'ottica di dialogo e confronto. Albertella si è infatti preso qualche giorno di tempo per riflettere e consultarsi con i propri sostenitori.